No ti assombres, si una noce, entro il tuo quarto e nuovamente ti agomia, mi inconoses, mistero... Campioni italiani di danze caraibiche, Eulalia, Leo, buonasera! Buonasera! Allora, siete emozionati? Eh, parecchio! Siete diventati campioni italiani all'inizio del mese di dicembre, dove siete stati? Abbiamo fatto la prima tappa di Coppa Italia a Pescara e abbiamo guadagnato il primo posto per la Combinata Cubana e il secondo per la Portoricana. Ma siete fantastici, ma da quanto tempo ballate insieme? Allora, da un anno e mezzo, più o meno, però in questa scuola, quattro mesi, abbiamo già raggiunto i gradini più alti del podio. Com'è questa ballerina? Brava, bravissima! Ti trovi bene con lei? Sì, sì! Senti, e tu invece da quanto tempo balli? Due anni! In due anni sei diventato così bravo? Sì, e io mi alleno due volte al settimana di pomeriggio e la mia ballerina è grandiosa. Ti ha definita grandiosa? Beh, anche lui è molto bravo, siamo una bella coppia di ballo. Quanti anni avevi quando hai iniziato i tuoi primi passi? Allora, io da piccolina, i miei genitori anche avevano questa piccola passione, poi... Te l'hanno trasmessa? Sì! Anche perché sappiamo che tu sei figlia d'arte, vero? Sì! Il tuo papà è un grandissimo musicista, il maestro Leonardo Lo Zuppone, lo vuoi salutare? Sì, ciao papà! Quali sono le danze che più vi piacciono? Allora, ci piace molto la salsa cubana, la bachata, il merengue. E tu in quale sei più bravo? La salsa cubana e mi piace tanto il merengue. Qual è il vostro obiettivo? Dove volete arrivare? Allora, noi puntiamo al gradino più alto, poi speriamo che un giorno il nostro sogno si diventi in realtà, cioè quello di aprire magari una scuola di ballo. Ma se siete così bravi è merito dei vostri maestri? Sì, certo! Eccoli Mirko e Alessia che vi consegnano le medaglie che avete vinto. Sì, abbiamo guadagnato appunto la medaglia d'oro per la combinata cubana e quella d'argento per la combinata portoricana. Mirko, come sono questi allievi? Allievi modello, hanno tanto da imparare sicuramente, però c'è tanto impegno, sia da parte loro che da parte dei genitori. E noi gli auguriamo un grande in bocca al lupo per il futuro. Alessia, ma è possibile che dei ragazzi così piccoli abbiano tutta questa passione? Certo, se c'è la volontà si va avanti. Diciamo che non c'è età per la danza, si può iniziare anche all'età di 4 anni. Però loro già all'età di 11 anni hanno la volontà di andare avanti, di studiare e capiscono il sacrificio. E qual è il consiglio che ti senti di dare ai ragazzi che vogliono cominciare questa attività? Che ballare è un bellissimo sport, si socializza, appunto si impara a stare insieme e poi comunque c'è la passione che unisce noi tutti. Te sinto tan lejos, aunque tu estes cerca, no sinto tu respirar. Te extraño por dentro, aunque veo tus ojos, siento que estás lejos de mí. Yo vivo sufriendo porque tu eres otra, no de la que me enamoré. Ieri a correr y correr y encontrar tu corazón. Ma anche voi siete campioni? Fortunatamente sì, lo scorso novembre dal 12 al 16 abbiamo disputato i campionati del mondo e abbiamo fatto tre finali. Quindi è una grossa soddisfazione per noi e anche per la nostra scuola di ballo. Quindi la danza ce l'avete nel sangue? Sì, dall'età di quattro anni, insieme balliamo da 14 anni circa e quindi come dicevano loro il nostro sogno nel cassetto era per una scuola di ballo. Si realizza ancora di più il nostro sogno conquistando questa finale al campionato.